Eccolo qui, il grafico di una delle materie prime, anzi probabilmente della materia prima più manipolata al mondo. E' il petrolio ragazzi, è il future del petrolio. Guardate che cosa è successo al petrolio dal 2014, metà 2013 ad oggi. Qui stavamo, guardate questi massimi qua che il petrolio ha toccato, stavamo intorno ai 110 dollari a barile. Correva il 2013, poi c'è stato questo abbassamento intorno ai 90 dollari. Guardate, vi faccio vedere qua quest'altra struttura. Vedete che il prezzo è stato per quasi un anno, anzi direi un anno, perché questo era settembre 2013, qua siamo a settembre 2014. Per un anno è stato all'interno di questo canale, tra i 110 dollari e i 120 dollari, si è creato questo doppio massimo e dopo questo doppio massimo il crollo. Questa è stata una delle più grandi manipolazioni della storia per una materia prima così importante. In questi giorni abbiamo parlato, tante volte ho parlato di quanto gli hedge fund, i grandi investitori, insomma le mani forti, i big dogs come li chiamano in americano, hanno il potere di manipolare il prezzo di qualsiasi materia prima. Anche una materia prima come il petrolio, che ovviamente è usatissima, è una delle materie prime per cui, che viene utilizzata sotto tantissime forme, per tantissime forme di energia. Nonostante questo, e nonostante è una materia prima che terminerà, proprio come bitcoin se vogliamo trovare un paragone, è una materia prima finita, quindi finirà a un certo punto. Nonostante questo, perché ci viene da pensare che il prezzo dovrebbe salire, no? Se è una materia prima che comunque a un certo punto finirà, la domanda continuerà ad esserci, o perlomeno adesso ce n'è tanta, il prezzo dovrebbe salire. Guardate qua invece che cosa è successo. Crollo spaventoso del petrolio, che ha perso in meno di un anno, ha perso prima il 60% e poi addirittura il 75%, toccando questi minimi qua a 27-26 dollari. Questi sono minimi storici, ragazzi, del 1997, se non ricordo male, del 1997. Quindi c'è stato un momento nel 2016, inizio 2016, e io me lo ricordo bene perché il mercato è andato in tilt, in cui il petrolio ha toccato i minimi storici del 1997. Vi rendete conto che cosa sono in grado di fare i grandi investitori? E adesso voglio che ragionate, ragioniate su quello che può succedere a bitcoin, e a tutti quelli che pensano con il future di bitcoin, che bitcoin può solo continuare a salire. Adesso che bitcoin è entrato nell'alta finanza, è nella serie A, come l'ho definito, adesso potrebbe succedere esattamente quello che è successo con il crude oil, con il petrolio. È possibile vedere questo? È possibile vedere un abbassamento del 70-60-70%? L'abbiamo visto con il petrolio? Perché non potremmo vederlo con bitcoin? Adesso siamo nella sfera della totale manipolazione. E che cosa è successo poi qui al petrolio? Al petrolio è successo che si è formato questo testa e spalle, quindi guardate, questa è la testa, testa e spalle di inversione, questa è la prima spalla, quindi spalla, e questa è la seconda spalla. E vedete che il prezzo ha provato prima a scendere di più della spalla precedente, poi è tornato indietro e si è praticamente piazzato sugli stessi valori della prima spalla. E adesso vi disegno la neckline, in modo che possiate, eccola qui la neckline, fatemela disegnare su tutta la sua lunghezza, perché così vediamo che cosa è successo in questi ultimi giorni. Facciamola un attimo blu e la voglio fare un attimo tratteggiata. Ok, guardate, vado un attimo, eccolo qui, faccio un po' di zoom. Scusate, vedete che, si vede poco così, fatemela tratteggiare così, perfetto. Questa è la neckline per la quale si aspetta la rottura, che il prezzo rompa questa linea per invertire la sua tendenza. Tendenza al ribasso, quindi inversione della tendenza, vuol dire cominciare a vedere il prezzo che si riprende. Vedete come in questa fase qui il prezzo ha provato, guardate, ha provato a rompere, però si è compresso molto, si è compresso molto ed è praticamente rimasto sempre adiacente alla neckline, è tornato indietro, di nuovo. Vedete come sente questo valore? Qui siamo intorno tra i 52 e i 55 dollari. È stata una soglia di prezzo che il prezzo ha sentito tantissimo in questo periodo, in questo periodo e poi di nuovo qua. Vedete, solo in questo momento, quindi pochi giorni fa, parliamo di novembre del 2017, il prezzo è riuscito a rompere, qui c'è stato il vero breakout della neckline, è ritornato un attimo e adesso sta lateralizzando. È in una fase di compressione, potremmo dire. Vedete qua c'è stato, guardate, fatemelo segnare, primo impulso rialzista e facciamola così e facciamola di verde. Primo impulso rialzista, ritracciamento, andiamo a vedere questo ritracciamento dove è arrivato, ritracciamento che ha sfiorato, fatemi da qui a qui, eccolo qui, ritracciamento che ha sfiorato il livello 38,2 e adesso il prezzo ha creato, vedete, un nuovo massimo, poi è tornato indietro e adesso sta comprimendo quello che potrebbe esserci dal punto di vista di analisi tecnica, è un triangolo simmetrico, eccolo qui, vedete questo triangolo simmetrico, quindi adesso ci aspettiamo qui o una rottura verso il basso con il prezzo che potrebbe tornare su questa grande struttura di prezzo tra i 55 dollari e i 52 dollari, per poi o tornare all'interno di questo mega testa e spalle che vi ho fatto vedere prima, oppure ritornare verso, oppure rompere verso l'alto e continuare la sua progressione rialzista. Quindi è un momento particolare, per ora il prezzo ha sentito molto la soglia dei 59 dollari e qui sarà molto interessante vedere che succede. Volevo farvi vedere però che, come al solito, in un momento in cui il prezzo si ha rotto, ha rotto la neckline, quindi c'è stato il breakout della neckline, c'è stato, diciamo, un segnale al rialzo, questo è il primo segnale al rialzo, e badate bene, questo non è un consiglio finanziario, stiamo facendo solo analisi tecnica, stiamo identificando dei pattern. Tutt'altra storia è applicarci poi delle strategie, quindi non sto parlando di strategie, non sto dicendovi di entrare in acquisto sul petrolio, stiamo solo facendo identificazione della price action, lettura della price action. E in un momento di lateralità, che cosa vi dico sempre, che cosa non si formano? Si formano pattern armonici. Andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultimo periodo. Allora, guardate, fatemi segnare un po' di fibonacci, perché così funzionano i pattern armonici. Allora, volevo farvi vedere dei pattern che già si sono formati. Eccolo qui, guardate, questo qui è un bel bad pattern ribassista, che è andato anche in, eccolo qui, da qui a qui, e poi ancora da qui a qui. Si è formato esattamente su questo livello con questa candela. Guardate, il prezzo appena ha toccato questo livello del completamento del bad pattern, boom, è crollato. È crollato, quindi segnale ribassista che, qui ha fatto un bellissimo ABCD pattern, guardate. Prima, ribasso, ritracciamento, copio e incollo questa linea qui. Guardate come, vedete che come intensità di profondità, questa discesa è molto simile a quest'altra. Infatti qua, se vado a disegnarmi, se vado a disegnarmi Fibonacci, l'inversione di Fibonacci, vedrete che stiamo vicino al livello 161,8. E infatti, vedete come il prezzo ha toccato il 161,8. Quindi qui, entrando qua in short, perché questo era un segnale ribassista, era un pattern armonico ribassista, posizioniamo, adesso non voglio parlare di come posizionare stop loss e take profit, quello dipende dalla vostra strategia, ma questa era un'operazione che se aveste anche cavalcato l'ABCD pattern, era un'operazione con rischio rendimento 1 a 5. Vedete, ingresso qui alla formazione del bet pattern, chiusura al completamento dell'ABCD. Operazione 1 a 5, vuol dire che se in questa operazione aveste investito 1000 euro, ne avreste portati a casa 5000. Queste sono le operazioni perfette, sono le operazioni che a fine anno vi garantiscono di andare in profitto. È quando riuscite a guadagnare molto di più di quello che avreste perso nel caso in cui l'operazione fosse andata in perdita. Il trading, ragazzi, è tutto lì. È tutta una questione di statistica, matematica, strategie, regole che vanno seguite. Giorno dopo giorno, pattern dopo pattern. E poi che cosa è successo ancora su questo pattern qui? Allora, guardate un attimo, eh. Andiamo a vedere un secondo, perché qui c'è un bel... Allora, fatemi disegnare, perché qui mi sembra di vedere un pattern che riconosco molto bene, e infatti ci sta. Fatemi solo disegnare. Ok. Sì, non si è ancora formato, ma è molto vicino al completamento. Questo è un cipher rialzista, ragazzi, guardate. XA, A, B, e ancora B, C, C, D. Eccolo qui. Fatemi cancellare un po' di linea di fibonacci, che è tutto quanto impasticciato. L'ha sfiorato quasi, il completamento è molto vicino, e qui il segnale è un segnale rialzista. Quindi siamo in una fase di mercato non strutturato, non tendenziale, ed è il mercato perfetto per andare a operare con i pattern armonici o comunque con il fibonacci trading. Ecco perché dico sempre che più armi avete al vostro arco, più conoscenze, più tecniche avete, e maggiori sono le probabilità di poter trovare opportunità sul mercato. E qui voglio andare anche ad aggiungere, giusto per vedere sempre, per trovare dei segnali, aggiungere anche le medie, le tre medie esponenziali a 21, 55 e 100 periodi, per farvi vedere. Vedete che quando il mercato si muove in maniera non strutturata, vedete quanta confusione c'è con queste linee che si intrecciano, poi si ridispongono una sopra l'altra, poi una passa sotto. C'è grande confusione, perché il movimento del mercato non è affatto strutturato. Se invece vado sul giornaliero, guardate come la situazione delle linee cambia, perché qui c'è stato l'incrocio delle, scusate, qui c'è stato l'incrocio delle tre medie che si sono ridisposte come dovevano, cioè la media più veloce è andata sopra, la media 55 e mezzo e la media 100 sotto. Vedete l'angolo di inclinazione è anche buono e da questo momento in poi infatti il prezzo ha cominciato a salire. Ha cominciato a salire e non è mai più, ha usato la media veloce a 21 periodi come punto di contatto nella sua crescita. Vedete che ci ha rimbalzato qui, ha rimbalzato qui, quasi ci ha rimbalzato qui, ha rimbalzato ancora qui. Qui l'ha appena superata, però poi è rientrato e adesso ci sta rimbalzando di nuovo. Vedete come aggiungendo informazioni, non è che io metto un indicatore e mi faccio dire dall'indicatore che cosa sta succedendo. No, metto insieme più informazioni, più tecniche, più approcci, più conoscenze per farmi raccontare, per fare quello che io chiamo lo storytelling del trader, cioè la storia che la price action di quel mercato, in questo caso il petrolio, mi sta raccontando. Bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Vorrei cominciare a fare più video sui future, perché adesso che abbiamo il future di bitcoin, per voi che siete interessati alle criptovalute, sappiate che comincerà un nuovo capitolo per bitcoin. Questo nuovo capitolo per capirlo, per affrontarlo, dovrete cominciare ad avere conoscenze completamente diverse da quelle che avete avuto fino ad oggi nel mondo delle criptovalute e molti di voi, lo so, di competenze sulla lettura dei grafici non ne hanno. Hanno sempre comprato criptovalute nella speranza che potessero aumentare all'infinito, ma non è una regola purtroppo nei mercati e adesso potrebbe essere finito questo enorme momento in cui il prezzo saliva e basta per quanto riguarda bitcoin e le altre criptovalute, perché adesso entriamo in una fase di potenziale manipolazione dei mercati, anche del mercato purtroppo delle criptovalute. Ragazzi, quindi, like se vi è piaciuto questo video, lasciatemi commenti per dirmi cosa ne pensate voi di questa possibile manipolazione, volevo farvi vedere il petrolio per farvi vedere come una materia prima così importante e così fondamentale per la nostra vita viene e finita in termini di produzione a un certo punto finirà, nonostante questo il prezzo subisce enormi manipolazioni. Bene ragazzi, grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti. Ciao. Ciao.